Motivazioni altissime, perché come ho detto, Andrea ha una tradizione, è una società importante e quindi la responsabilità è massima. Non siamo assolutamente giovani, anzi già sentiamo il peso degli anni, ma abbiamo l'entusiasmo dei ragazzini, questo è sicuro. Hanno in comune l'età con un solo anno che li separa e il fuoco dentro, ritratti di Mirko Cudini e Sandro Federico, 49 anni. Il primo, 50 e il secondo saranno allenatore e direttore sportivo della Fidelisandria nella stagione 2022-23, quella del rilancio dopo la sofferta salvezza di maggio e del restyling tecnico e societario. Avevamo tutti e due la stessa idea, quindi è uno di quei pochi casi dove veramente si va dritti perché eravamo convintissimi che potesse essere allenatore giusto per una realtà così importante. L'insistenza e la voglia di portarmi qui ad Andrea da parte del presidente e del direttore stesso, credo che abbia fatto la differenza. Siamo sentiti in una settimana con la società, siamo sentiti quasi sette giorni su sette, quindi questa è stata la differenza con altre società. Arriva dall'esperienza con il campo basso Cudini, club riportato tra i pro con le idee, le stesse che hanno garantito ai molisani la permanenza nel gruppo C di Serie C sul campo. La sua Fidelis assicura l'ex difensore dell'Ascoli, guarderà in avanti. Sicuramente è un gioco offensivo, sicuramente è un gioco propositivo, sicuramente è una mentalità vincente che non è sempre facile da creare, però sicuramente lavoriamo per questo. Non a caso i primi quattro arrivi di calciomercato, Mercurio, Alba, Persichini e Pavone hanno caratteristiche comuni, giovani affamati e impiegati dal centrocampo in su. Patrimonializzare sarà la parola d'ordine. Credo che questa categoria stia soffrendo perché troppe volte vediamo operazioni sballate e bisogna provarci. Tanti dicono che è difficile, no, non è vero. La scorsa estate ho avuto la possibilità di vendere tre calciatori, Santoro, Diagite e Cianci, perché avevamo patrimonializzato, prendendo calciatori è praticamente a zero e questo vuol dire provarci. È una soluzione, ovviamente si deve provare anche a pescare su qualche valorizzato. In tante operazioni che faremo tra questi Persichini l'obiettivo è tra un anno di provare a vendere qualche ragazzo di questi in Serie A, sarebbe bellissimo. Hanno quelle caratteristiche che possono fare al nostro modo di pensare, quindi parliamo di due giocatori giovani che hanno dimostrato anche il loro valore in categoria inferiore, però credo che abbiano tutte le caratteristiche per poter stare, o perlomeno ci auguriamo, per poter stare in una piazza come Andri. C'è anche un messaggio per i 13 giocatori sotto contratto dalla scorsa stagione. Casoli è una certezza, ma in tanti sono destinati a salutare entro fine agosto. Lui potrebbe essere uno di quelli giusti per ripartire per una stagione diversa. Non esagererei nel dire rivoluzione, abbiamo voglia di cambiare un po' di facce perché probabilmente anche alcuni di loro hanno voglia di cambiare aria. C'è bisogno di cambiare, c'è bisogno di cambiare come ho detto perché a volte pur non volendolo vengono fuori delle annate non positive, quindi siamo prefissi queste idee con la società, cercare di buttare delle basi per fare un progetto anche a medio e lungo termine.